Fragoroso passo indietro della VL. Dopo la vittoria su Brescia, a Trento riemergono tutti i vecchi vizi dei biancorossi che cadono nettamente 109-82. E dire che i ragazzi di Sacchetti erano partiti bene chiudendo il primo quarto in vantaggio e andando all'intervallo a tiro di uno svantaggio limitato sul 42-39. Nella ripresa il crollo, acuito dalla concomitante vittoria di Treviso su Reggio Emilia che lascia Pesero al penultimo posto in solitaria. Nella serie B di basket buona anche la seconda, invece per l'Ital Service Loreto Pesero che dopo aver spugnato Roma concede il bis nella serie Play in Gold. Al pala Megabox battuta Fiumicino con un netto 80-59. Nel calcio la bis Pesero si è inceppata. Ad Arezzi i biancorossi incappano nella terza sconfitta delle ultime quattro gare. I toscani vincono 2-1 andando avanti con un gol per tempo con Chiosa e Guccione. La V si sveglia sul 2-0 attaccando a testa bassa ma trovando solo la zuccata vincente di Nicastro che addolcisce la pillola ma non una classifica che continua a complicarsi. Nella pallavolo davanti ai 1.155 spettatori pesaresi la Megabox Vallefoglia lotta ma ci dà la distanza contro una prosecco d'occhi Mocco Conegliano che pur con un massiccio turnover in vista delle semifinali di Champions League ha confermato la sua enorme qualità strappando l'ennesima vittoria in un campionato immacolato. Non basta una Megabox coraggiosa le Venete vincono in 4-7. Alle Tigri va il primo con 25-22 poi Conegliano esulta tre volte 17-25, 22-25, 13-25. Nel calcio 5 favolosa prestazione dell'Ital Service che nel venerdì sera del Palamegabox ha battuto 4-1 l'Ecositi Genzano seconda forza del torneo. Il protagonista del primo tempo è il grande ex di Oliveira che su Malgrado porta in vantaggio l'Ital Service con un'involontaria deviazione e poi pareggia il conto per l'1-1 all'intervallo. Nel secondo tempo è Tripudio e Ital Service che va in vantaggio con Caruso e gonfia la dote nel finale con Murillo e Barichello per tre punti d'oro nella corsa play-off. Corsa che continua già domani, martedì 12 marzo alle 21 in casa dell'Olimpia Verona.